Paolo Lini, sindaco di Clusone, ieri sera prima riunione del gruppo di maggioranza, come è andata? È andata bene, è andata come doveva andare, con armonia e simpatia fra le persone che sono state in lista, hanno messo a disposizione il loro impegno, gli argomenti sono parecchi da affrontare, è una riunione che fa seguito comunque alle tante altre che abbiamo fatto prima dalle elezioni, quindi ci conosciamo, abbiamo affrontato i temi della disponibilità, soprattutto del tempo, ci siamo anche stretti un'altra volta la mano in segno di vittoria, perché comunque va del risultato che abbiamo raggiunto, è notevole. Quindi per la definizione della Giunta ci vorrà ancora qualche giorno? Sì, per la definizione della Giunta ne avevamo già parlato anche prima, perché l'ho detto anche prima, anche le persone competenti, abbiamo indicato quali settori potranno andare a occuparsene, vengo incalzato in questi giorni dalla questione del vice sindaco, non credo che ci siano questi problemi che la cittadina clusonese ha, perché comunque vada, sappiamo che ci siamo messi al lavoro per dare uno slancio e un rilancio alla nostra cittadina. La figura del vice sindaco solitamente viene data a chi ottiene il maggior numero di preferenze. Ovviamente in un accordo come è la nostra alleanza Lega-PDL si potrà ulteriormente discutere, si potrà vedere, la persona che ho indicato io è perché è stata indicata dagli elettori con 189 preferenze, ma nelle nostre continui incontri, ma che non saranno solo per la definizione della Giunta, ma in futuro dovranno sempre esserci numerosi incontri, perché il lavoro da fare è tanto, vedremo da affrontare anche questi argomenti. Il discorso degli assessori, sappiamo che la legge è un momentino cambiata, quindi ci permette comunque oggi di avere ancora il numero di cinque assessori, e quindi cercheremo di sfruttare le potenzialità che sono emerse all'interno della squadra e soprattutto delle persone che hanno ottenuto le preferenze.